Ciao, nuova challenge gelati asiatici dal market dove andiamo sempre Ciao ragazze, questo è il signore un gelato, oddio Un gelato Quello è il signore che fa scalzo sull'asfalto di 100.000 gradi Quello di Lara è latte fragola Forse va al tappo d'aprire No, così E' buono Buono Ciao ragazze, oggi provo io Ti copi Gelato Ai Fagioli Fagioli azuchi dovrebbe essere dolce Non so Non è male Non è neanche bene però Il sapore è buono ma la texture è troppo farinosa Bocciato ha vinto sicuramente Lara E niente, ciao